Fabrizio Fagiano, psicologo del lavoro e docente skill lab. Oggi ci stiamo confrontando nell'ambito degli aggiornamenti per RSPP sul tema dell'abnormità e quindi per tutto quello che riguarda il fattore umano rispetto all'aumento di probabilità di accadimento di infortuni sul lavoro. Il corso sta andando molto bene, sono veramente soddisfatto del livello di partecipazione e stiamo discutendo anche animosamente in modo tale che il risultato per questa giornata possa risultare il più utile possibile per quando i colleghi torneranno nel loro posto di lavoro.